Questo sabato 7 settembre si sono disputate all'autodromo nazionale di Monza le prove libere del Gran Primo di Formula 1 Santander. Ad assisto vivono anche Rocco Anaclerio, alias DJ Ringo, e Giovanni Di Pillo, noto telecronista sportivo. Speriamo che la loro presenza si possa rinnovare nel corso di questo weekend, sicuramente è un esempio di come questo importante evento possa attirare anche numerose persone dello spettacolo e della televisione.